Il Governo sta discutendo diverse ipotesi e a breve naturalmente presenteremo la nostra proposta. Il Green Pass è un elemento importante che di fatto viene già utilizzato, capiremo insieme tutti i Ministri anche in dialogo con le Regioni e come utilizzarlo per far sì che la pandemia venga tenuta sotto controllo perché la sicurezza di tutti è l'elemento cruciale anche per confermare la ripartenza delle attività non solo scolastiche ma delle attività economiche dopo la pausa estiva.